Alimentazione o nutrizione? Questo è un aspetto importante quando facciamo le considerazioni su che cosa dobbiamo mangiare, perché mangiare non sempre è nutrirsi. Se noi pensiamo che ci sono tre gruppi principali, glucidi, lipidi, protidi eccetera, quando noi parliamo di alimentazione, intanto fa rima con nutrizione solo quando i cibi che noi assumiamo sono equilibrati, ricchi di sostanze che poi alla fine possono rigenerare il corpo e chiaramente mantenerlo in salute, insomma i cibi di una volta. L'alimentazione in generale fornisce il cibo all'organismo che attraverso il metabolismo estrarrà energie e sostanze fondamentali sia per rigenerarci che per rimanere in salute. Insomma alimentazione e alimentarsi significa introdurre cibo nel corpo un po' indipendentemente da che tipo di cibo effettivamente a noi serve. Quando parliamo di nutrizione intanto è una scienza, quindi che studia il corretto apporto di principi alimentari attraverso cibo e alimentazione. Chiaramente in questo c'è da fare una piccola analisi perché quando noi consideriamo che ogni alimento è sì composto da sostanze semplici che sono uno dei tre gruppi che abbiamo visti prima, però chiaramente la loro costruzione è diversa, quindi noi possiamo mangiare delle proteine che possono essere di ottima qualità, in teoria dalla soia eccetera, oppure di pessima qualità. Possiamo mangiare dei grassi buoni che poi magari arrivano dall'olio Evo, extravergine di oliva, oppure dei grassi saturi provenienti da prodotti industriali. Possiamo mangiare in teoria frutta perfetta, quella di stagione, oppure invece surgelata proveniente da molto lontano e magari cotta a lungo in acqua. Quindi in questo c'è da capire poi quando noi facciamo sport qual è l'alimentazione adatta e quindi diventa una nutrizione perfetta per poi vincere o migliorare le nostre prestazioni. Grazie, alla prossima! Allora, ti invito nella mia pagina. Allora, ti invito nella mia pagina. Grazie.